Dicevamo dell'estate di San Martino e in Italia sono due i luoghi che sentono maggiormente questa festa sono Predazzo in Valle di Fiemme e Venezia, però ricordiamo che San Martino è anche il patrono di Belluno e a Venezia l'11 di novembre i bambini con pentole e coperchi girano per i campi e calli e domandano qualche spicciolo ai negozianti oppure ai passanti, anche ai turisti e cantano una bellissima filastrocca in Veneto che non mi metto qui a recitare perché non è il caso le conclusioni della filastrocca possono essere due a seconda che i bambini ricevano in effetti in dono qualcosa oppure nulla, quindi ricorda in qualche modo Halloween con i soldi guadagnati viene invece comprato il tradizionale dolce di San Martino che esiste poi in due versioni, un dolce di pasta frolla a forma di San Martino a cavallo con la spada, con il mantello ed è decorato con glassa di zucchero colorata, praline, caramella e cioccolata oppure c'è una versione anche più antica ed è un dolce di cotognata ma in fondo si celebra San Martino un po' in tutta Italia quindi auguri a tutti Martino che stanno ascoltando in questo momento e questa canzone combattente di Fiorella Mannoia la dedichiamo a tutti i giovani veneziani perché Venezia sta vivendo un periodo piuttosto difficile colma di turisti, ormai troppo sacrificata di interessi che sono di tutti ma non dei veneziani e i ragazzi si rifiutano di assistere alla morte della città e la resistenza parte proprio da questi giovani che si sono sentiti negli anni ignorati decimati, espulsi dalla città di appartenenza la sfida impossibile è restare o tornare a Venezia e sulle sue isole per cercare di colmare questo vuoto il quotidiano alla Repubblica qualche giorno fa ha ascoltato alcuni di loro una ragazza dice che prima la speculazione era semplicemente un dramma estetico ora esclude la vita, Venezia è prossima a ridursi ad un deserto occupato da 30 milioni di visitatori all'anno e nessuno sembra capire che il caso Venezia è un'emergenza che poi tocca a tutti quanti sono state tantissime in questi anni le iniziative per sensibilizzare tutti gli italiani verso questo problema una avrà luogo domani alle 11.30 grazie al sito venezia.com si chiama Venexodus questa iniziativa oppure tolgo il disturbo tutti con la valigia in mano sotto il municipio per protestare contro lo spopolamento quindi un doge in gondola abbandonerà simbolicamente Venezia per sempre tirando un trolley in realtà c'è stata una frase del sindaco che ha fatto riflettere ha detto il futuro dei veneziani è o mestre oppure sulla terraferma quindi dicendo a tutti quanti il centro storico ormai è perduto e c'è un ragazzo di 33 anni che è stato intervistato che dice che amministra una comunità non può invitarla ad andarsene per fare posto a chi spende di più oggi tocca a Venezia domani al resto d'Italia quindi i giovani stanno facendo di tutto per riprendere il controllo della città e soprattutto noi dobbiamo capire che Venezia non è un problema soltanto dei veneziani ma è un problema di tutti noi che cosa possono combinare i turisti cinesi proprio quest'oggi a Venezia non si sa perché l'11 novembre è il giorno del Singles Day in Cina che è una festa popolare che è nata nel 1993 rappresenta una giornata da dedicare a se stessi comprare quelle cose che uno ha sempre desiderato un po' come la festa di San Valentino ma soltanto per i single un po' come la festa di San Valentino ma soltanto per i single